Sono Sara Timpano, sono il numero 21 della lista Partito Democratico Valle d'Aosta Benecomune e Sinistra Valle d'Aosta. Sono qui per raccontarvi un po' di me e un po' di quello che spero che accada in Valle d'Aosta nel futuro. Ho scelto questo posto perché è casa mia, dove sono cresciuta, ma anche perché qui ci sono un sacco di tematiche e spunti interessanti di cui parlare. La scuola innanzitutto. La scuola pubblica dovrebbe essere la cosa più importante. È il posto dove i giovani, i ragazzi, i bambini imparano a crescere, a diventare cittadini e a prepararsi per il mondo del lavoro. Sarebbe bello avere una scuola dove i bambini e i ragazzi possano crescere in tranquillità, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Troppi edifici scolastici valdostani sono in una situazione pericolosa e questo va cambiato. Perché non iniziare con una ristrutturazione o miglioramento degli edifici scolastici Valle d'Aosta? I trasporti. Poco meno di un anno fa, qui al quartiere d'Oro, è stata cancellata una linea di autobus, senza interpellare minimamente la popolazione. Ecco, io per la Valle d'Aosta vorrei un sistema di trasporti efficiente e soprattutto attento alle esigenze delle persone e degli utenti. Voglio una Valle d'Aosta aperta. Una Valle d'Aosta aperta verso l'esterno, verso il resto del mondo. E allo stesso tempo aperta verso il futuro. Voglio vedere una Valle d'Aosta bene comune.